GOLF Ecco Quando tu esci fuori Devi ritornare nel tuo punto Di partenza Ecco qua posso anche fare forte Ok Prima ho fatto uno sbaglio Sono in sesta posizione Per adesso Ecco adesso prima Con 5 tiri Vediamo gli altri quanto faranno Io dovevo farne 4 Perché uno l'ho proprio sbagliato Sono ancora al primo posto Ok Devo tenere il primo posto Perché Sono diverse Diversi round Ah ho sbagliato Vabbè Qua è rischioso E vabbè qua Sto sbagliando tante volte Nel senso sbagliando Sto facendo tanti tentativi In tutto ne abbiamo fatti 12 Vediamo gli altri quanti ne faranno Hanno ancora 6 secondi Ok Sono ancora al primo posto Ok Ok il tempo è scaduto Ok Lì si esce La tiro ancora Un'altra volta No sono uscito Ho fatto un grande errore Anche questo Spero che anche gli altri sbagliano lì Vabbè Sono ancora il primo Però mi possono superare Ok Sempre primo Ok Hai vinto Primo posto Ecco mi danno 200 monete Più il baule Vabbè E Allora Facciamo Sempre il classico Però spegniamo 1500 monete Beh 1500 monete Il guadagno Del primo posto È 1500 monete Volevo dire Ah no aspetta Ok Qua mi sa che I giocatori sono molto più forti Allora Sono già terzo Perché gli altri Hanno fatto in 3 tentativi Io in 4 Ok Quello è caduto Ecco Ecco Io al giorno Hanno fatto in 6 tentativi Perché Non hanno Non ce l'hanno fatta A Finire Prima del tempo Non uscire Non uscire Che fortuna Che fortuna Qua è abbastanza Difficile Perché C'è anche pure Il ghiaccio Che può scivolare Bella pallina Però Non cadere Ok Però per dire Già il secondo livello È abbastanza difficile Come mappa Ah 11 tentativi In tutto Va bene E vediamo gli altri Gli altri sono ancora indietro Ok Due Uno Ok Sono in primo posto Qua si riuscirebbe anche a fare In un tentativo Ah ma è tutto Ok Ok Due tentativi Va bene dai Vabbè Gli altri Sono proprio ancora indietro Ah ma Io sono andato sul ghiaccio Che C'è È molto più difficile Allora Ok Ok Sono ancora al primo posto Dai Tempo scaduto Ecco Primo posto E mi sono guadagnato Ste monete Un altro paule Ok E apriamoci una cassa Spendendo gemme Vabbè Vediamo 90 monete Ok E una nuova palla Ok Facciamo l'ultima partita È sempre classico Facciamo la corsa La faremo in un prossimo video Aspettate Vediamo che mappa ci sono Mmm Belle Però devi essere Proprio livelli alti Tipo L'elite Che bello Livello 20 Però devi essere Vabbè Ok Allora E Quello da Ok Qua devi spendere 1900 No E facciamo Questo Dai Spendiamo un po' di meno Però dai Speriamo fare Questa Questa partita Qua Allora Se mi metto Qui Lì dove c'era il fango Mi rallenta Questo gioco Qua si può anche giocare online Con gli amici No Se andavo un pochino più lento Potevo fare Potevo Entrare nella buca Al volo Va bene dai Cioè sono sempre primo Cioè il vantaggio C'è anche Quelli che Che proprio Entrano per primi Ecco Come adesso sono stato rallentato Non uscire Ok Ok 8 tentativi In tutto L'altro 11 12 Ma quanti tentativi Hanno fatto in tutto Qua non credo Che mi superano Cioè Io ho 8 Gli altri 11 Ho però 12 Ecco Uh Qua Diventa più difficile Tipo io Ho sbagliato Un po' Ecco Ho aspettato Il momento giusto Ah No Non ci credo Che brutto Ok dai Vabbè ho fatto Vabbè dai Ci sta Ah ma sono sempre Ok ho vinto Cioè Ho fatto Tre partite Tutte e tre Primo posto Uh Bohu l'epico Se l'ho letto bene Sì Quello da 8 ore Vabbè dai Lo apro Soltanto perché Sto registrando E perché ne ho vinte Tre di partite Ok Apriamo Vediamo cosa ci troviamo Uh Quattro Carte Ok 400 monete Ok Questa Potenziamo dopo Ok E 6 gemme Pensavo un po' di meglio Vediamo un attimo Allora Queste qua sono le palline Che ho Queste qua sono tutte le mie palline Che ho E questo Non ho ancora sbloccato Quella Con il lucchetto Vediamo dopo Le mazze Tipo c'era Quella mazza là Che ho trovato prima Che devevo potenziarla Eccola Ah mi dà pure una gemma Ogni volta che potenzio Ok Allora Questo Ok Ecco Era queste Queste Le due palle nuove Va bene Però io mi lascio questa Perché è premium E Davvero difficile Averla Va bene Per oggi è tutto Iscriviti al mio canale Mettete like Cliccate la campanellina Per non perdere Nessuno I fantastici video Ciao